I tifosi si aspettano tanto, il derby Milano è una partita importante perché Milano si ferma, Milano respira questa atmosfera di questa partita qui. Per noi era un doppio derby, perché noi eravamo la squadra brasiliana e loro la squadra argentina, per cui era un derby, non solamente un derby della Madonnina, ma un derby sudamericano, Brasile-Argentina, e lì la cosa si diventava ancora più grande. Il nostro obiettivo era la finale della Champions League, perché è stata una squadra creata per vincere la Champions League e abbiamo la fortuna o la sfortuna di avere davanti i nostri principali avversari, che è l'Inter. La soddisfazione è stata grandissima, perché vincere loro in una semifinale, gli andari finali contro la Juve, è stato il momento magico di questa storia, di questi club.